gira la ruota gira la ruota e gira e gira si chiama karma si chiama karma si chiama karma ma oggi nel giorno dell'ISEL contro la tifoseria che più ha offeso quelle 39 vittime tifosi fiorentini e il cabi te l'ha messo nel culo nel culo il gol ho visto il miracchio piangi piangi raga comunque la cosa più bella della finale di conference league oggi a parte il gol del cabi è che sia finita sta partita di merda vedete mettere competizioni inutili e qui sono i risultati mi sono addormentato quattro volte ma io vi gioca di merda ma questa penso che sia stata la partita più di merda ma più di merda di quest'anno ma comunque fiorentino coppa in faccia non l'hai vinta neanche con l'olimpiaco e il cabi faceva il muratore a rimini e il cabi faceva il muratore ha fatto che babbano spaccino in bianchino poi muratore poi così andano a fare il calciatore e il cabi il got della conference aspetta 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 è il cabi è il cabi te l'ho messo nel culo te l'ho messo nel culo vedete si chiama karma nel giorno delle 39 vittime l'avete preso nel culo e si gode e si gode a casa a casa adesso andatevi a mangiare la fiorentina il caciucco quello di rivorno vabbè vedete a mangiare anche quello il pane lì con come si chiama quell'altro comunque vi fate una bella scorpacciata e andate prossima volta sui morti non si scherza e vedrete che qualcuno in più in italia potrebbe fare il tifo per voi perché della grecia non ce ne frega altamente un cazzo a nessuno ma il cabi il cabi il cabi iscriviti al canale